Ciao a tutti Bentornati Il volume è un po' altino vero? Forse dobbiamo Lo sentiamo più basso Adesso provvediamo Questo è Warhammer Water Virus Si Ci stiamo assorbendo O assorbando Assorbisciando Allora questo è un gioco pvp Devo scegliermi l'eroe Se non mi scelgo l'eroe Scegli l'eroe Scegli l'eroe Abbassiamo un po' l'audio In modo da impedire Ok grazie Un po' lo mettiamo Ok questa è la versione free to play Del prodotto Warhammer online Qualche video già l'abbiamo fatto Si credo Io Come al solito Mi hanno invitato Già dai primi Ah guarda All'inizio di uno scenario Qua non ce l'ho mai stato Andiamo a picchiare qualcuno Così a caso Nuovissimo Allora Cambiato anche l'interfaccia È un po' più semplice Rispetto a Ancora più da rincoglioniti Però Beh è sostanzialmente È più carino Allora no Se vi piace il pvp Ci dovete giocare Non c'è un altro gioco Più buon pvp Di questo qua Cioè hanno levato Questo che a me non piace Sì sì Hanno levato a warhammer Tutte le stronzate Ecco io mi scappo Perché vogliono O unare Le chiappaus Hanno levato Eh sì Ci riescono eh Sì Hanno levato a warhammer Tutte le Dicevo Io cerco di far L'intera gioco Una cosa che Non è facilissima Hanno levato a warhammer Tutte le stronzate Ecco sono morto Viva Dicevo Hanno levato a warhammer Tutte le stronzate Dell'ex Per lasciando In fondo Quello che si faceva Alla fine Gli scenari E loading In scenario Quindi E in più Ci giocate gratis Che non mi sembra Non è da sottovalutare Assolutamente Non è da sottovalutare Cerco di taglittizzare Qualcuno Mi metto da dietro Sto lontano Io comunque Anche gratis Gli giocherei Allora io gratis Non è brutto Io invito Andac e compagni Tanto mi sa Che non mi sento Loro mi sa I miei video Non l'hanno mai visti No Non ne ho idea Comunque Loro che cercano Sempre un gioco pvp E adesso finiscono Un gioco pvp Tipo Swatter Potrebbero venire qui Non pagare O unano tutti quelli Che vogliono Quando vogliono Perché lo vogliono Perché il gioco Sostanzialmente È questo Non sostanzialmente È proprio così Lo scopo è esattamente quello Questo è blu E tua vero? Sì Io sono i blu Io faccio il blu Tu sei i rossi Allora qui Ve l'abbiamo già spiegato Per quelli che l'hanno visto Avete una serie di spell Proprio ridotti all'osso Tutti uguali L'armor tutto uguale Ovviamente poi procedendo Con i livelli Avrete alcune abilità Bim bum Cazzi e mazzi Però non ti puoi cambiare niente No c'è un item shop Quello per compassi delle robine Che non ho mai guardato Quindi questo mi posso Ma è online o ci si può accedere da qua? In che senso? Nel senso Da qui ci puoi accedere direttamente? Sì Dallo schermo Prima Quello che hai visto Ok È finita Così vi faccio vedere anche Ok io come mi sono classificato Ho fatto 6 punti Però hai perso Ho fatto 725 damage Vabbè ma sento credo a A partita Iniziata Iniziata Ah beh hanno vinto i verdi Hanno vinto i verdi E così vi faccio vedere Ah il bonus Guarda Sembra con la sottomachine Wow Prendo queste cose Viva Allora questo diciamo è il front Quei promette play now Se non siete in una warband Che sta tipo giro Ah ma questo però non è tradotto No Ah parzialmente è tradotto Credo che posso usare quello Perché il gioco In origine uscì anche in italiano Con tanto riservi italiani Gotor Riservi italiani Quindi Qui adesso siamo C'è la warband Se voi siete una warband Che è una specie di gilda La lista dei friends Lo store in cui non sono mai stato Ecco Qui potete comprare delle robe Ah puoi comprare gli eroi Sì Eroi Assolutamente nulla di particolare Niente armi Ah Comprate gli eroi I skin Credo che sia tipo Dei costumi Ripartiti Via Subito Facciamo vedere un paio di scenari Questo è un'arena Stai tu Vittori Pa 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 Qui l'ibasso C'è il caricamento Abbastanza semplice Tutto il gioco è Semplice e lineare Fast Sì Una partita è via Sì sì Ah qui posso scegliere Scegli il tuo eroe Lei? Eroi Sono i rossi Arancioni Che mi ero avventurato Come al mio solito Più o meno Però ci sei andato vicino Dai Pensa Beccavi il verde Alla c'è anche I tattoo Il verde l'ho disperato Mi dovevi indicare Tu Scegli da 15 minuti Quindi se ci avete Un quarto d'ora Caricate Vi fate le vostre visioni Qualcuno mi ha fatto La puzza Sarà vanilla Probabilmente Allora Muori 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 No Non è proprio per me Ha fatto minimamente Già mi sto senti male Tra le altre cose Eh dai Come ti fai senti male Questo è me Io sto a morire Perché nessuno mi supporta Sei morto Anzi morta Questi spostamenti Così veloci Beh sono indispensabili Appunto E io ti ripeto Sono estremamente nobs In queste cose Ripeto Tu pensa Già non mi piace Per giocare Dovrei anche soffrire In una maniera sconvolgente Ah questo è ovvio Fatto vedere il punteggio Senza voglia In realtà Ah chi è che mi melava Qualcuno ti picchia Da die Da Da que Ecco Questa è verde Per esempio Stai per morire Per schettare Perché questo è il triplo Della vita di te E non è da sola E' morto Che figura di merda Beh un altro personaggio Per farvi vedere Allora dopo questa Sì già che ci stiamo Figura di merda più Figura di merda meno Ehm no Irin che support Focus Ma questo Un po' gay Dai L'Archew Air Ci sta E' un tuo classico Tra parentesi Rapidsfire Ho visto l'occhio? E infatti Ma tu stava di Inquitante Questo occhio Che ti guarda Ma tu stai picchiando a casa Stai picchiando a questo tipo Laf Cazzi e mazzi qua Laf Satu O laf Satu Non lo so Insomma A metà della vita Tre quarti Un decimo Morto Ok Quindi hai uccisi due al momento Sì E sono stato ucciso Un miglior Ammazza quanto corri gay però Ho detto E si rende gay Io Mamma mia Vabbè che ti ero Un po' La famiglia Io ho capito Una colonia settentrionale Ah wow Tra 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 Ripetizione Fortissimo Infatti ho fatto un altro poi Cacchio di roba Oh In compenso Questo che è Beh Sai Al terzo Mostriciattolo Che ammazzi Poi ti tanano Tana Tana E qua non so come si rigenerà la vita Quindi fai ciccipioc Un ciccipiocco Mi tengo un po' lontano Sei un ciccipiocca Non ti puoi tenere Troppo lontano Troppo vicino Amico mio Eh E ciccipiocca È una sorta di Nascondino Guardi e ladri Sì È bello Ridotto così Credo che i deb del gioco Siano felicissimi Gli hai demolito il gioco Dicendo che li nascondi Nei guardiellari No Sì più o meno Eh no di nuovo Ma perché con me Io sono buono Non sono della stessa opinione I tuoi avversari Eh vabbè Lo riprendiamo Sì Ci hai messo più tempo a morire Eh allora Da fai Viveca va ammazzato Ma lo cerchiamo Va gli arresti Il favore va Eccolo qua Viveca Muori 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 maledetto I va lontanissimo Troppo lontano Per te È morto Ma non era quello Che ti ha ucciso A te Sì sì Fai ti vedo Ah È morto È spaventato Il profono qua davanti Sono un po' scomodo Yeah Guarda È abbastanza innaturale Sto tiro Effettivamente Ma con quello Regolas Ti fa le vitte Sì appunto È un po' innaturale Abbiamo finito il stampo No Gli è venuto Sono tipo un laguolo Su ti fermi Cioè quello è una roba Che puoi fare Per la cotina Cioè vabbè Per l'italiano ho capito Eh vedi Sottiri da cerbottana Se ti preparo Un discreto numero Di cartucce però Un blu Un blu Un verde Sei morto Mi squadro Sto giro Beh Ma scusa Un healer Da ste parti Non esiste No Non ce l'avete Ho visto Io sono Ah Mi hanno inseguito Perché parlo Posso Fai io healer Volendo Sei capace Beh Basta Io non so capace Per esempio In compenso Stiamo a fare Tutti i personaggi Beh Oh C'è un video Allora No Bello Ti stai a parlare Ok Questa è un'altra cosa Che non avevo mai fatto vedere Che cosa? La chat in gioco No Quindi alla fine Sì ti ammazzano Ti ammazzano Sono un frate di sigma Wow Mi sono emozionata Si sente Vero Si Sono emozionata Si Yeah Questo picchia Mentre le picchi Guarisci Quelli attorno a te Buono E ce n'è un altro Di l'ero Solo questo E ho visto solo questo Poi gli altri C'è solo il pretazzo Prende a colpo a colpo E te stesso pure curi? Mh? Pure tu Ti curi? Si si Curi tu e poi attorno a te Buono Senti che voci neri Dicolissime Si I più sono le cure I meno sono i danni Come qualsiasi altro Gioco Oh Spiegavo Vai vai Eh Sei morto pure C'è un altro Tipo di Quick skirmisher No Torniamo a Questa Vedi Tac Compete I personaggi Fino Fino Chiaustai Si si Legolas De no art Qua c'è Abbottana Io vi sento di consigliarvelo Se Se vi piace Il pvp E vi vogliete di trovarlo Nei titoli mainstream Scordatevelo Ecco Se andassi a free to play Sai che vuoi provare Duckfall Devo informare Se hai ancora Pay Informati Informati Secondo me Google sa dove trovare una risposta Secondo me Google sa dove trovare una risposta A questa tua domanda Mi fanno schiattare Da ridere le vocine Che danno i personaggi Però Finito Sì Abbiamo vinto No No Hanno vinto sempre i verdi Ho capito sempre Quanti danni ho fatti Ho fatti Voi siete arrivati i secondi Su terzi E' un buon posto E l'avevo buttato poi Spin Eeeh Eeeh Vabbè Di nuovo No Vi salutiamo qui Sì grazie Ciao a tutti Ciao Ciao